Gossip Uomini e Donne Gossip Uomini e Donne, Soleil innamorata di Marco? La dolci dedica Soleil sorge di uomini e donne, la prima dedica per Marco Cartasegna?. Non cè davvero un solo giorno in cui Soleil sorge e Marco Cartasegna non facciano discutere sui social. E, proprio poche ore fa, come segnalato dal blog Isa Echia, la bella Soleil ha pubblicato un suo selfie sul famoso social network Instagram, e nella didascalia ha scritto . A proposito, sto indossando il sorriso che mi hai dato Cancelletto Buongiorno Cancelletto Smile. Una dichiarazione, che ha immediatamente fatto pensare a una dedica all'extronista di Uomini e Donne. Sarà davvero così? E questo non è stato nemmeno l'unico gesto che avrebbe fatto per Marco in queste ultime ore. . Difatti, la giovane ha pubblicato sul suo profil personale del social network fotografico un video di Marco contro il chiberbullismo. . E anche quest'azione è stato interpretata dai tanti supporter come l'ennesima prova che tra e due sia nato l'amore. . Tuttavia questi non sono certo stati giorni facili per i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Ed è stata soprattutto Soleil a entrare nell'occhio del ciclone. . Difatti, per i pochi che non lo sapessero, la giovane ha lasciato giusto lunedì scorso Luca Onestini. Uomini e Donne Gossip, Soleil Sorge e Marco Cartasegna insieme. . Una decisione, che non è stata presa molto bene dai numerosi supporter di Uomini e Donne, i quali si sono riversati su social per attaccare la bella Soleil Sorge. . Finita qua? Nemmeno per sogno perché proprio negli ultimi giorni la ragazza di origini americane è stata anche criticata molto pesantemente dalla ex fidanzata di Marco Cartasegna. . Difatti, quest'ultima, ospite nella trasmissione condotta da Barbara D'Urso, è stata la prima a rivelare che tra Marco e Soleil ci sarebbe stato qualcosa in più di una semplice amicizia. . Una dichiarazione che non è affatto piaciuta alla bella Soleil, la quale ieri su social è sbottata, accusando Federica Beninca di non essere mai stata una vera amica, e questo suo comportamento proverebbe solo il fatto che stia cercando di cavalcare l'onda. . . Insomma, la burrascosa vita sentimentale della sorge pare aver alimentato una vera e propria tempesta sul web. . Finirà mai questa diatriba? Si saranno davvero messi insieme? Oppure è nata semplicemente un'amicizia? Queste e tante altre le domande che si stanno ponendo in questi giorni i tantissimi supporter del popolare dating show di Canale 5. . . . In attesa che venga fatta chiarezza dai due interessati, non resta che augurare loro comunque un po' di tranquillità. . 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